mitici e mitiche seah of stars è arrivato day one edition sul plus andiamo subito a vedere non è la demo ma è il gioco linguaggi ci sarà tutto il mondo tranne l'italiano esattamente grazie grazie software house per contare su di noi giocheremo con lei dai benvenuto molto importante questo chi è che è l'alchimista pronto assolutamente si dai tanto non è che la storia sia no io in inglese non lo leggo raga te lo lascio qui così potete leggere anche voi a monitor il tempo che leggo io fredd c'è un eroe esattamente tuo eroismo flash monster speriamo che sia bello dai dammi mano a un forchettone qualcosa che iniziamo a picchiare ok ma comunque siamo tutte e due questo gioco è stato fatto così ridono tutti qua andiamo a picchiare qualcuno ah proprio così lui è andato di là tranquillo e noi abbiamo il allora attacca attacchiamo bravo bravissimo ah pensavo che se andavo in giro a smazzarla non me la ricordo che io la devo salta ah benissimo passiamo ah tu non hai trovato nessuno io ne ho trovato il mondo ok quindi allora io devo tornare indietro guarda dove c'era lui sicuramente ci sarà qualcuno adesso perchè lui è io l'attacco adesso vediamo qua che succede grande 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 intanto intanto c'è con l'altro che continuano a saltellare eh oh siamo arrivati io mi sa che è qualche frutto che si può prendere da mangiare credo eh credo io non 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 è io Grazie a tutti. Eh, scusati perché io ho ammazzato tutti e tu nessuno, ti è andata bene, ti è andata. Ma adesso dormiamo che domani sarà una lunga giornata. Dai Zegli, stai tranquillo, Zale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, salviamo. Non si può accendere, uuuuh, fuocarello, è già ci, credo, fuocarello. Allora, andiamo dentro qui. Uh, guarda qui c'è. Ok, ciao. No, avrei voglia di lavorare, però va bene. Oh, questa è una taverna gigantesca, tre tavoli sopra. Ehi, aspetta. Wow. No, avrei voglia di lavorare, però va bene. 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 Grazie a tutti. 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 Oh, vediamo che cosa succede? Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.